Ora ci troviamo sul Makaplatz. Per favore, adesso posizioniamoci in un modo da dare le spalle alla chiesa. Così sarà molto più semplice spiegare cosa si trova dove. Allora, con le spalle verso la chiesa, guardiamo a ore 12 e poco prima delle 11 e mezza, vediamo un edificio, è giallo, con strisce bianche verticali. Lì dentro nacque il famoso Christian Doppler. Ok, non siete stati attenti a fisica. Egli ha scoperto qualcosa di molto particolare, che è stato chiamato logicamente l'effetto Doppler. Questo effetto Doppler è oggi sfruttato per creare immagini sonografiche che permettono ad ogni futura mamma ed ad ogni futuro papà di mostrare con fierezza le prime immagini del bambino non ancora nato. Se ora guardiamo un po' verso la destra, vediamo il Landestriata. L'odierno Landestriata fu precedentemente tutta altra cosa. Lo si chiamava Ballhaus. Una Ballhaus era una cosa particolarissima. Principi, nobili, borghesi e coloro che se lo potevano permettere venivano qui a giocare a palla. Ma non normalmente, giocavano ad una specie di volano. Soltanto più tardi, con l'illuminismo, l'arcevescovo di Salisburgo, Coloredo, convertì questo campo da gioco in un vero teatro per la popolazione perché la gente potesse vedere qualcosa di nuovo e avere una formazione. Vicino al Landestriata c'è il Mirabelgarten, un must assoluto per tutti coloro che vengono a Salisburgo. Anche l'edificio qui vicino sulla destra, che ora ospita l'Hotel Bristol, fu anche qualcosa di molto particolare. Qui subito dopo che Alva Edison ebbe inventato la lampadina, sorse la prima centrale elettrica del regno austro-ungarico che fornì corrente elettrica alle prime case della città. In questo nuovo hotel, centrale elettrica, si tenne il primo congresso di psicologia dell'età moderna. C.G. Jung e Sigmund Freud si incontrarono qui e parlarono dinnanzi a molte centinaia di visitatori specializzati nel settore. Ora, proprio dietro di me, vediamo la chiesa della Santissima Trinità, di Dreifaltigkeitskirche, una particolarissima costruzione risalente all'era dell'arcivescovo Johann Ernst von Thun. Questo arcivescovo Thun a Salisburgo aveva il soprannome Il Fondatore perché fece costruire moltissime opere non soltanto chiese. Questa fu realizzata dal famoso costruttore e edile Fischer von Erlach che egli fece venire da Vienna dopo che lì aveva costruito la Karlskieche. Anche altre importanti costruzioni di Salisburgo furono edificate da lui. Il seminario che si vede a sinistra e a destra, vicino alla chiesa, ospitava studenti delle zone circostanti che qui ricevevano la formazione per diventare sacerdoti. A destra, vicino alla chiesa della Santissima Trinità, vediamo il palazzo Ublacca. È il palazzo di una vecchia famiglia della nobilità salisburghese che fu costruito molto presto e ospitò per lungo tempo una banca, poi una posta e ora nuovamente una banca. Subito sulla destra, un edificio relativamente nuovo dove prima c'era un giardino. In questo giardino si trovava anche qualcosa di molto particolare. C'erano Isatla, padre e figlio. Il padre era un pittore di grande talento, un pittore di paesaggi e dipinse un quadro molto famoso che si può ammirare ancora oggi a Salisburgo. Lungo 25 metri e alto 5 metri. in una rotonda. Allora lo si chiamava Cosmorama. Non esisteva ancora la fotografia, quindi ci si doveva affidare ai pittori di paesaggi. Questo Isatla era un giramondo. Durante la sua epoca dipinse a New York e a città del Messico. Realizzò anche immagini dell'Egitto e del Sud America. Un emozionante museo da visitare sul Residenceplatz. Subito sulla destra si trova la vecchia Tanzmeisterhaus, la casa del maestro di danza. La Tanzmeisterhaus era una specie di scuola di danza per la nobilità, per i cittadini nobili che magari avevano l'opportunità di recarsi dal re a Monaco e dall'imperatore a Vienna. E naturalmente dovevano sapere come ci si comporta in quelle occasioni. Come si balla elegantemente una quadriglia, come si mangia correttamente a corte, come si saluta l'imperatore, come si entra in una stanza e come la si lascia. Soltanto alla morte del vecchio maestro di danza, la famiglia Mozart si trasferì e fu qui che Mozart trascorse la giovinezza. Ora mi trovo vicino al plastico di Daniel Craig, eh, scusate, il plastico di Anthony Craig, e alla chiesa alle mie spalle una volta si trovava qualcosa di molto particolare. C'era un arcevescovo, parliamo di nuovo del signor Thun, e questo arcevescovo aveva veramente un gran cuore e compassione per i suoi cittadini che al momento non avevano denaro. Decise di istituire qui un banco dei pegni. Fu chiamato Mons Pietates e i cittadini che avevano veramente bisogno di soldi potevano andare lì e impegnare i propri oggetti di valore con un tasso di interesse molto, molto basso per superare il brutto periodo fino a quando non avrebbero avuto di nuovo più denaro. Questo banco dei pegni fu demolito con il primo imperversare della tecnologia quando a Salisburgo fu costruita la ferrovia. Le prime ferrovie, però, non erano così snodate da poter semplicemente fare una curva e si dovette quindi demolire il banco dei pegni perché la ferrovia potesse curvare comodamente. Il famoso scultore inglese Tony Craig ha creato questa opera d'arte per la Salzburg Foundation. Una caldera, il cratere di un vulcano nel bel mezzo di Salisburgo. certamente rappresenta l'incredibile energia della città. Questo luogo si chiamava originariamente Hannibalplatz avendo preso il nome del fratello dell'arcevescovo. Negli anni bui della storia di questo paese dagli anni 30 agli anni 40 del 1900 la piazza fu chiamata Adolf Hitlerplatz ma grazie a Dio alla fine è stato scelto il nome molto più affascinante di Makartplatz dal famoso pittore viennese Hans Makart. Dio alla fine è stata scelto